musica vieni spento sono molto stanco non so perché ho una fiacca disumana addosso mi sento molto fiacco mi sa con la pressione molto bassa in questo momento musica Grazie a tutti. Sono finiti? Come se sono finiti? La nuova pace è molto bella ragazzi. Cosa volete che ne pensa? È molto bella anche se ci stanno ancora cose che non vanno. Ad esempio c'è il Thompson che... Comunque l'arma è più forte del gioco. Comunque l'arma è più forte del gioco. Troppo forte quest'arma. Le manette fammi un 3. L'hai capito subito allora, bravo. Ciao, tutto buo. Ciao. 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 Grazie a tutti. Questa skin si compra sullo shop ragazzi per chi lo stesse chiedendo. Questa skin si compra sullo shop. 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 Spiderman baby